Auto in fiamme E' nella serata di martedì 26 luglio intorno alle 20 in piazza Generale Romano Castellamonte. Un Audi A3 e una Fiat Punto parcheggiate e si sono incendiate. Sul pozzo sono intervenuti i vigili del fuoco di Brea Castellamonte, i carabinieri di Castellamonte, il sindaco Pasquale Mazza e il consigliere Alessandro Musso. Probabilmente le fiamme sono partite da una delle letture propagandosi anche all'altra. I vigili del fuoco le hanno domate spente ma le auto sono andate comunque distrutte. Nessuno è rimasto ferito, ha certamente incorso sulle cause. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.